Un osso selvatico non ha limiti, né geografici, né politici. C'è qualcosa di straordinario in quell'animale. Ormai era considerato una popolazione estinta, biologicamente. Insomma, era un progetto molto ambizioso. Mi sembrava tutto troppo bello per essere vero. Andrà! Andrà! Il 26-jährato fu fuori in la regione Trentino, quando si fuori. Alerté par sa famiglia, son cor ha été retrouvé dans un ravin par les secours. Tiefe biswunden beizen auf den angriff eines Bären. È sempre stata snobata questa attività informativa. Quindi la cosa ha preso una piega politica. Poi con il tempo, con l'aumento degli animali, con l'aumento dei problemi. Nessun degli elevatori è pro l'osso. Tutti sono contro. Si il bè non c'è nessuna accettazione, non c'è nessuna possibilità. Il bè non c'è nessuna accettazione. Il bè non c'è nessuna accettazione. Il bè non c'è nessuna accettazione. Grazie a tutti.